Brasile-Svizzera, non è tutto quel che luccica. Segui l'algoritmo del Corriere dello Sport su Telegram. Prima dell'inizio dei mondiali di calcio in Qatar se vi avessero detto che il gol di Brasile-Svizzera era a 2. 13 cosa avreste risposto? Dopo la prima giornata, la convincente prova del Brasile contro la Serbia e la sudata affermazione degli svizzeri con il Cameron determinano l'idea generale che il Brasile passeggerà oggi alle 17. 0-0. Lo conferma il segno 1-1, 49 e il segno gol squadra ospite, la Svizzera, a 1. 86. Il giocatore della domenica guarda il risultato finale ma se scaviamo più a fondo. Quanti possono negare l'affermazione che nel primo tempo la Serbia aveva imbrigliato bene il Brasile a centrocampo? Serbia che, per inciso, finisce a prendere tre gol anche dalla sfitta e con Cameron. Per quanto l'Italia abbia buttato alle ortiche la qualificazione con due rigori decisivi calciati male da Jorgino. La Svizzera è comunque una nazionale solida e di buona tecnica che ha lasciato a casa i campioni d'Europa. Siamo così sicuri che il Brasile, per di più senza Neymar, oggi pomeriggio farà un'esibizione senza rischi. L'unico vero rischio di questo match si potrebbe palesare dal 75 del secondo tempo quando, in caso si punteggio in parità, le squadre potrebbero pensare di chiudere la seconda giornata con quattro punti e di giocarsi la qualificazione all'ultima. Quando il Brasile affronterà il Cameron e la Svizzera spareggerebbe con la Serbia. Entrambe con due risultati su tre a disposizione, pareggio e vottoria sia per il Brasile che per la Svizzera. L'analisi di gollo scarta il segno 1 e si propone di giocare il gol a 2, 13 oppure l'1-1 finale. Sul gruppo Telegram trovate l'ambo di questo pomeriggio incluso il match del Portogallo mentre sulla potete vedere le giocate fan dell'algoritmo. Buon divertimento su Corriere dello Sport Fan!